problemi di sosta in via del confalone macchine e biciclette parcheggiate in modo selvaggio non permettono il passaggio pedonale per raggiungere le attività le residenze a trovare maggiore difficoltà sono i clienti del negozio elettricità di fabrizio donatiello come racconta lui stesso le persone non possono venire in negozio e neanche diciamo andare in casa perché non c'è la possibilità di passare di qua diciamo tra le biciclette accatastate come ora come si vede ma magari ce ne sono anche di più le macchine messe male fuori dal posto non ci si passa proprio neanche a piedi addirittura c'è una signora che sta qui accanto al primo piano che ha la carrozzina delle volte non ci passa proprio tocca fare un giro lungo che addirittura è difficile perché poi magari non ci si passa neanche da altre parti quindi è diventato insostenibile una cosa insostenibile fra le rasterdiere qui delle biciclette ci sono delle bici abbandonate da non dico da anni ma quasi lasciate lì abbandonate addirittura come si vede fanno anche da cestino da cestino da porta rifiuti perché la gente poi ci tira le carte le bottiglie e quindi anche anche brutta vedersi anche qui vi trovate una soluzione questo è un problema mi diceva che si ripete da tanti mesi e quindi non attuale però è da molti mesi che avevate fatto una segnalazione in comune addirittura mi sembra da marzo da marzo ora 2023 abbiamo fatto diverse alcun minimo 6 a 7 segnalazioni abbiamo fatto con e mail allegati con le foto con tutto e niente loro l'hanno lette queste mail perché si vede che l'hanno ricevute però nessuno si è fatto mai vivo oppure mandato una risposta qualcosa niente non ci hanno mai detto niente l'hanno ricevute